La rincalzatura consiste di prendere una porzione di terreno tra un filare di patate, finocchi, ortaggi e vanno rincalzati e portare la terra addosso alla pianta in modo da coprire, appunto nel caso del finocchio, il tronco del finocchio per garantirgli maggior stabilità, maggior calore e un po' di estetica rendendolo più bianco dentro e meno duro da mangiare e cucinare. La rincalzatura è un concetto molto facile, consiste nel portare, come ho detto prima, della terra addosso una pianta in modo da coprirla stando attenti però a non sciupare le radici intorno alla pianta. Potremo usare una zappa, meglio sia lama larga per poter asportare più terreno in un sol colpo. Poi il lavoro di fino lo potremo andare a fare con una piccola zappetta e andremo al fine a ricoprire tutto se vogliamo con delle foglie della paglia e della pacciamatura in modo da proteggere il terreno. Contate che il terreno scoperto, visto che è più scuro della pacciamatura, in inverno si riscalda prima ma si sciupa con le intemperie e quindi andremo a rovinare un po' la nostra composizione del terreno. Scegliete voi se è meglio la pacciamatura o il terreno. In questo caso ho fatto la prova della pacciamatura per vedere se cambia qualcosa, visto che fa ancora caldo e c'è una buona porzione di sole a riscaldare pure la pacciamatura.